Ti vuoi raccontare brevemente la sua notte? Come è iniziata? Che cosa ha fatto? È una notte per raggiungere quanto prima la postazione. Sentivo che un Vescovo questo deve fare, stare vicino al suo popolo, alla sua gente, quindi non potevo perdere neppure un minuto per arrivare il più presto possibile e stare qui perché in qualche modo il Vescovo rende presente il Signore Gesù, il buon pastore che sta vicino alle sue pecore. E questo ho cercato di fare ma penso che questo avrebbe fatto al mio posto qualunque altra persona fosse stata qui a ricoprire il ruolo di Vescovo di Ischia. Ho ricevuto telefonate dai Vescovi dell'Umbria che hanno vissuto l'esperienza del terremoto come pure quello emerito di Ancona, mi ha chiamato proprio pochi istanti fa il Cardinale Menichelli, il Vescovo Sorrentino, tanti che stanno chiamando per esprimere solidarietà alla nostra comunità isolana. Io spero che anche il Governo si renda conto di come sia importante per Ischia che subito si attivi la ricostruzione perché evidentemente Ischia vive di turismo e quindi non possiamo pensare a tempi biblici per la ricostruzione di questo sito che è Casamicciola Alta ma mi sembra anche Lacco a meno.